Per la redazione di Espansione TV o per i colleghi del Corriere di Como era semplicemente Marci, Marcello Dubini, un amico e un collega che non c'è più. Marcello se n'è andato questa mattina a 57 anni a causa di una feroce malattia che l'ha portato via in poco più di un anno, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e una profonda tristezza in tutti noi, giornalisti di Espansione TV e Corriere di Como, con i quali Marcello ha condiviso la quotidianità lavorativa per oltre 20 anni. Marcello aveva iniziato la sua carriera da giornalista al Corriere della Provincia, a Espansione TV e al settimanale Il Caffè. Aveva poi fatto del giornalismo una professione diventando caporedattore del Corriere di Como. Non ricordo una sola volta in cui Marcello si è entrato in redazione di cattivo umore. Non ricordo una sola volta in cui Marcello si è entrato in redazione limitandosi a un semplice saluto perché lui aveva sempre quella parola in più, tipica di chi ha davvero a cuore i rapporti umani. Nel Marcello, che abbiamo conosciuto in redazione, convivevano con armonia due tratti apparentemente distanti, humor anglosassone e praticità brianzola. In altre parole, aveva uno spiccato senso dell'umorismo, delicato, a volte pungente, mai sguaiato e al tempo stesso era in grado, forse grazie alla sua vocazione matematica, di affrontare con grande praticità problemi complessi. È difficile per me trovare le parole in un momento di immenso dolore come questo. Ho lavorato con Marcello per 30 anni, è il ricordo di Mario Rapisarda, amministratore delegato di ETV e già direttore di ETV e Corriere di Como. Un uomo saggio, riflessivo, che riusciva a trasmettere serenità in tutte le situazioni. Esprimeva un'innata eleganza, nei modi, nell'eloquio, nello sguardo, nel portamento. Un vero e proprio gentleman del giornalismo, conclude Rapisarda. Marcello amava girare il mondo. In redazione ci parlava spesso dei suoi viaggi, talvolta organizzati, talvolta più avventurosi. Raccontava quanto gli piacesse, ad esempio, perdersi a piedi nelle grandi metropoli. Ma il tratto di Marcello più evidente, ai nostri occhi, era la disponibilità. Quella sua R d'altri tempi, quella pronuncia particolare, rendeva poi la sua voce e i suoi modi ancora più garbati ed eleganti. Marcello Dubini era un signore, un uomo gentile e di rare educazione. Mancherà a noi, mancherà ancora di più alla sua famiglia, alla moglie, Betty, e al figlio, Filippo, che stringiamo in un abbraccio a nome di tutta la redazione.